Ciao a tutti appassionati di Anime Manga, sono Alex, come sempre invito a seguimi qui su YouTube, su Instagram, su Twitch e anche nel mio gruppo Telegram per stare sempre aggiornati. Tutti i link come sempre li trovate qui sotto in descrizione. Oggi andrò a fare le recensioni Il Principe dei Mostri, Edge da J-Pop 12 euro, questo è il volume 1, questo è il volume 2 e il cena è uscito anche col cofanetto, più famoso in Italia come Carletto Il Principe dei Mostri, un anime dell'83 uscito in Italia. Il manga del 1965 ha opera di Moto Abiko, o meglio si presenta come Fujiko Fujio e A Cerchiata perché è un duo di autori che si firma Fujiko Fujio, di solito tutte le opere che fanno insieme, invece in casi speciali quando c'è solo la A è Moto Abiko uno dei due. Quando invece c'è Fujiko F puntata Fujio è l'altro Yoshi Fujimoto, più conosciuto magari per l'opera, la sua propria famosa che è stata Doraemon che è un manga del 69, che ci ha lasciato nel 96 quando si è concluso Doraemon, mentre l'autore questo, Mobito Abiko, ci ha lasciato recentemente quest'anno nel 2022 e quindi siamo anche giusti a ricordarlo. È un manga per ragazzi, anche se i ragazzi di oggi probabilmente non lo leggerebbero mai perché in quegli anni andava bene per i 13-14 anni, forse adesso già 8 anni forse sei già grande per leggere questo manga. Voglio perché le generazioni sono cambiate, sono cresciute, però era giusto per ricordare questo autore perché neanche io prima di prenderlo sapevo chi l'avesse fatto. Grazie a questo mi sono documentato sugli autori e conosce la loro storia, che entrambi sono ispirati stranamente a Osamu Tezuka per le loro opere. Sapevo chi era Carletto grazie a Principe di Mostri, anche se il titolo originale non è Carletto perché il protagonista si chiama Taro Kaibutsu, che è proprio appunto il Principe di Mostrilandia, questo fantomatico paese di mostri. Un po' come Dororone Makun di Gonagai, l'ha fatto ovviamente dopo, quindi non sarebbe giusto dire un po' come sarebbe il contrario. Però visto che Dororone Makun ci ha già fatto il video, quindi prima di questo ve lo riporto. Per appunto Taro Kaibutsu decide di trasferirsi per appunto sul pianeta Terra, il suo vice di casa di Roshi, un ragazzo normale in sua qualità, nella sua età, e per appunto diventano amici. Anche se Taro Kaibutsu ovviamente già subito all'inizio dice che è un mostro, ha la particolarità di modificare le sue parti del corpo, di allungarle, di ingrandirle, di cambiare volto come vuole. E qua sotto Stepp ha poteri psico-cinetici, quindi ha grossi poteri, ecco. È accompagnato da Frankenstein, l'uomo lupo e il vampiro Dracula come aiutanti. Quindi la scelta è interessante perché essendo il Giappone 65, invece dei mostri giapponesi, del folklore giapponesi, gli okashi, ha scelti i mostri occidentali. Quindi è una scelta davvero particolare dall'autore. E quindi qua vediamo non tutta l'opera integrale, è una serie di racconti tratti dai sette volumi originali. Quindi vediamo la storia iniziale quando si conoscono e la storia finale quando se ne va. Che già alla fine ci dice che questa storia è durata 5 anni, l'amicizia tra loro due è durata 5 anni. E quindi vediamo, un po' esattamente come in Doraemon, varie storie, varie avventure che si susseguono durante il manga. Quindi slegate un po' tra di loro, un po' come andava comunque di moda in quegli anni grazie ad Astro Boy. Anche se Astro Boy, secondo me è tratta tematiche già un po' più adulte, anche se adulto è sbagliato perché è per ragazzi. Però anche adesso sono tematiche che i ragazzi possono leggere e piacere. A differenza dei piccoli mostri, anche forse per il tratto un po' antico, un po' per le storie, secondo me, non è adatto per i ragazzi d'oggi. Perché probabilmente li prenderebbe a noia, lo vedrei più bene per bambini, anche se non è un Kodomo, a differenza di Doraemon che è un Kodomo. Che è il suo manga per bambini. Però in quegli anni andava bene anche per quei 12-13 anni, secondo me. Adesso la maturità è cambiata, quindi probabilmente non gli andrebbero più bene, non gli van più bene. Quindi è stato comunque un viaggio interessante e carino, gli hanno fatto scoprire il Principe dei Mostri anche lo stile di disegno che è molto simile a Doraemon. Perché comunque loro due lavoravano in coppia, quindi è ovvio che abbiano avuto uno stile di disegno molto simile. Gli anni più o meno sono quelli perché è iniziato nel 65 ed è finito nel 69 il Principe dei Mostri. E pochi mesi dopo è iniziato il suo compare a fare Doraemon. Ovviamente hanno fatto opere insieme, perché se no non sarebbero un duo, che però purtroppo in Italia non mi sembra che siano mai arrivate. E quindi essendo questa l'unica opera di questo autore che conosca che sia arrivata in Italia, l'ho presa anche per... Comunque Carletto, Principe dei Mostri è qualcosa per gli italiani magari non per me perché sono già cresciuto dopo, però magari per i ragazzi degli anni 70, 80, soprattutto negli anni 70, è qualcosa che comunque hanno vissuto. Ed è un bel ricordo, è anche un modo per me che amo i manga di ricordare questo autore, di avvicinarsi a questo autore, di conoscerlo. E non farlo dimenticare, perché non è giusto che venga dimenticato, perché comunque è stato uno che ha dato il là a questo genere. Comunque per ragazzi, bambini e ragazzi, ecco. Se vogliamo fare questa disgressione, non tanto ragazzi tra 14-15 anni che sono sempre più grandi, però diciamo quella fase che passa da bambini a ragazzi, secondo me. E quindi molte avventure, particolarità come ho già accennato, che tratta mostri non tanto giapponesi ma occidentali. Quindi, particolarità di questo, dell'ultimo volume, che anche c'è una specie di ciclopedia dei vari mostri che vengono visti durante questo manga. Alcuni neanche vengono mostrati in questa opera, perché, come ho già accennato, non raggruppa tutta l'opera integrale. E quindi è un approfondimento in più. C'è anche l'intervista a fine del secondo volume, che secondo me è parecchio interessante. Io vi ringrazio, se il video è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate like e noi ci vediamo ai prossimi video.